Il 20 marzo 2023, presso Palazzo Bianchi ad Adrano, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, si terrà il seminario Trattamento delle Acque Reflue con Sistemi Naturali di Depurazione e Riuso in Agricoltura, organizzato dal Centro Studi di Economia Applicata all'Ingegneria, Università di Catania, Consorzio Erogrumi e Regione Siciliana. Interverranno tra gli altri il Vice Presidente e Assessore all'Agricoltura della Regione Siciliana, Luca San Martino, l'Assessore all'Energie e Servizi di Pubblica Utilità Isolano, Roberto Di Mauro, il Professor Salvatore Barbagallo, Presidente XEI Catania e il Dottor Salvatore Rabisarda, Direttore del Consorzio Erogrumi, capofila del progetto IRIAP.